Con la firma dell'accordo di partenariato tra Agenzia per lo Sviluppo Rurale MOLIGAL e Consigli delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Molise e Puglia prende via il progetto interregionale Parcovie 2030 volto a valorizzare i patrimoni dei territori rurali rigenerando al contempo il sistema socio-economico delle comunità locali al fine di creare nuova occupazione. Il Consiglio regionale d'Abruzzo con il Presidente Lorenzo Sospiri ha assunto il ruolo di capofila dell'accordo. Un cammino che noi vediamo come un'azione di sviluppo territoriale di grande spinta per il turismo recuperandolo la nostra identità che c'è in tutte le regioni italiane o nella grande maggioranza di esse nonché in molti paesi d'Europa e grazie all'opera del Presidente Ciambetti riusciremo a portare all'attenzione dei ministeri competenti la richiesta dei necessari finanziamenti per realizzare questa infrastruttura. Una cabina di regia nazionale effettuerà il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione di ogni singolo programma e progetto fornendo informazioni alle regioni sull'attuazione con l'indicazione dei motivi di eventuali ritardi oltre all'elaborazione e alla proposta di programmi e progetti integrati e all'implementazione con programmi e progetti futuri. Una transumanza riscoperta lungo tracciati percorsi dentro al profondo del nostro paese le aree interne che normalmente sono fuori dai grandi flussi turistici dai grandi progetti. Questo è un progetto di valenza europea che non era scontato che ha messo assieme le energie di tantissime regioni in Italia e che grazie appunto anche alla lungimiranza di Lorenzo Sospiri ha potuto trovare il là per poter essere appunto coordinato e steso da una cabina di regia, un gruppo di lavoro importante. Partiamo con grande speranza sotto buoni auspici e speriamo veramente di riuscire a far atterrare questi fondi europei sul nostro territorio per dare risposte a chi vive nel settore primario a chi vive di agricoltura e di allevamento a chi vive anche di turismo, ripeto, fuori dai grandi flussi turistici.